Un giorno di pausa pieno, totale, me lo sono preso anch'io. Ieri era il 15 d'agosto e ho detto non sto ad annoiarvi mentre siete impegnati a farle grigliate con la famiglia, gli amici, eccetera, eccetera. E soprattutto non sto a mettermi qui a raccogliere tutte le informazioni. Quello che succederà lo commenteremo domani. E di cose ne sono successe, anche se il 15 d'agosto, anche perché effettivamente in Serie A le squadre, i club, la Juve, soprattutto, non si sono mica fermate, per forza di cose, domani inizia il campionato. Sarebbe anche strano pensare che possano mettersi a riposare, avere un bicchiere di vino, un bicchiere di birra e ingozzarsi. Dicevo no, non è così, si è continuato a lavorare sia sul mercato, sia sul campo. Ed è giustissimo. Intanto la notizia che ha sconvolto un pochettino il mezzogiorno juventino di ieri, e cioè Kenan Ildis vestirà la maglia numero 10, liberata da Paul Pogba, che fu di Alessandro Del Piero e che sarà di Kenan Ildis. Quindi molto bene, ci sono stati passi avanti nel rinnovo di contratto del giocatore, sono riusciti ad arrivare a una quadra, poi leggeremo anche il comunicato ufficiale, ma la 10 è una mossa finalizzata ad avere Ildis ancora alla Juve per tanto, tanto tempo. Mi fa piacere doppiamente, vi ho già spiegato la mia posizione sulla numero 10, ormai è soltanto marketing e il marketing lo fanno giocatori come Ildis oggi. Giocatori che sono veramente amatissimi dal proprio Juventino, soprattutto dai più piccoli, e che d'ora in avanti potranno questi nuovi tifosi identificarsi all'interno di un giocatore differente, proprio come Ildis. Io credo che il calcio stia cambiando, ragazzi. Il calcio non è più quello che si vedeva una volta, magari i nostri papà di 50-60 anni hanno vissuto già un calcio diverso dal nostro, però sia il nostro che il loro probabilmente era molto più simile, oggi la nuova generazione fa fatica a rimanere attaccata alla partita. Seguono il calcio in maniera un po' più superficiale, il social network delle società di calcio è il punto di riferimento per queste nuove generazioni. Quindi è logico che la Juve debba muoversi di conseguenza. La 10 è marketing, puro marketing. Lasciate stare il romanticismo, lasciate stare tutto quello che è stato, i ricordi che avete legati alla 10, creiamoli dei nuovi, con Ildis protagonista e sono convinto che sia un giocatore molto forte che potrà far valere le sue doti tecniche con quella maglia pesante, se non pesantissima, sulla schiena, ma allo stesso tempo bella, se non bellissima, che rappresenta al meglio, secondo me, il concetto di calcio. Chiesa, Chiesa al numero zero invece. Sapevamo, no, che Chiesa era un giocatore messo pubblicamente fuori rosa alla Juventus, ecco, ora non c'ha più nemmeno la maglia, se prima si allenava in gruppo e questa cosa ci aveva lasciato anche un po' perplessi, ora non più, non si allena nemmeno più con i compagni, Chiesa è un fantasma dentro la continassa in questo momento, insieme a tanti altri suoi compagni. Pazzesco, perché in questo momento di emergenza in cui stiamo veramente contando con le dita, mi sembra assurdo che la Juventus vada a giocare a Juventus Como con 13, 14 giocatori di movimento, con i next-gen aggregati e ci siano 5-6 giocatori della Juve che la guarderanno a casa sul divano, ma questa è la linea guida che è stata scelta, che al momento non sta pagando, perché poi dal punto di vista delle eccessioni poca roba rispetto a quella decisione lì, però la 7 è libera, la 7 è una maglia che indossa solitamente, un giocatore di cui parleremo nei prossimi minuti di video. E intanto si libera anche un altro giocatore, perché Gudmundsson oggi andrà a sostenere le visite mediche con la Fiorentina e questa trattativa dal Genoa alla Fiorentina appunto libera una casellina sul fronte uscite, sul fronte eccessioni e quindi commisso potrà dare il via libera per la trattativa che porterà Nico González dalla Fiorentina alla Juventus. Io non sono grandissimo fan di questa trattativa per come è stata impostata, è un giocatore che comprendo come utile nel gioco di Tiago Motta, è un giocatore che sicuramente in Serie A fa la differenza o comunque ha fatto vedere di poter fare la differenza, è un giocatore che a noi manca con quelle caratteristiche tecniche dopo aver ceduto sull'E, questo è un dato di fatto, è un giocatore che a quelle condizioni economiche non mi stuzzica, mi sarebbe molto di più piaciuto vedere un incastro con qualche altro esubro della Juve, e chissà che questo non possa cadere successivamente, però sono molto pessimista da questo punto di vista perché lo stesso Meccanico è un giocatore che a Firenze interessa, è anche un ragazzo che in questo momento ha delle idee un po' particolari su quella che la sua carriera forse sta un pochettino sopravvalutando quello che è il suo apporto e quello che le altre squadre potrebbero dargli perché se la sua richiesta è comunque ferma sui 5 milioni e fino adesso nessuna squadra gli dava o quelli che gli ridavano li hai rifiutati perché comunque con lì più soldi di buona uscita non lo so se si riuscirà a trovare una soluzione che accontenterà il ragazzo, un grosso in bocca al lupo perché per noi diventa ovviamente prioritario dato che abbiamo necessità di cedere il suo cartellino, però credo che non sarà la Fiorentina o non sarà Firenze il futuro di Meccanico, potrebbe tornare quello di Arthur, si sta parlando nuovamente di un prestito a Firenze, Arthur è un altro giocatore che per la Juventus è veramente un disastro dal punto di vista economico, finanziario, di bilancio, una trattativa che ci stiamo portando dietro davvero da tanti anni senza riuscire a risolverla effettivamente perché tutti gli anni semplicemente alziamo il tappeto e mettiamo sotto Arthur, non facciamo nulla per darci veramente un taglio definitivo, è difficile, sono impossibile, dato che stiamo parlando di tanti soldi di ammortamento, tanti soldi di ingaggio, è un giocatore che rimane lì, ci saranno altri due anni di contratto e sarà così per altre due stagioni. Parlavamo però di Comainers che veste dal numero 7 all'Atalanta, che ha perso la Supercoppa Europea, che si prepara ad iniziare questo campionato e che potrebbe liberare il giocatore in direzione a Juventus che andrebbe a riprendersi ancora una volta il numero 7. Ieri siamo arrivati a 52 milioni più 7 di bonus che fa 59. L'Atalanta chiede 60 milioni, la Juventus ne offre 59 con i bonus. Io ve l'ho già detto qualche giorno fa, ero al mare, ero in spiaggia, ero tranquillo, sereno, riposato, rilassato. Non è più il momento di star lì a guardare il milioncino. Se l'Atalanta ormai è entrata nell'ottica dell'idea che lo vende a 60, cioè questi sono talmente pazzi in questo momento che vanno a giocare una Supercoppa senza Comainers, che potrebbero benissimo dirti se non ce ne dai 60, non te lo diamo. Cioè 52 più 7 di bonus potrebbe non essere nemmeno sufficiente come offerta. Potrebbero volerne 60. E noi arrivati a questo punto, probabilmente, dovremmo cercare di dare lo strappo definitivo. Attenzione, è un'offerta molto alta. Per me già 55 milioni di euro con i bonus compresi era altissima. Per quanto io amico Mainers, però è anche una situazione un po' complicata. E qui veramente si vede la differenza tra una squadra che deve vendere, come è stata la Juventus, perché la Juventus doveva vendere, e una squadra che non ha necessità di vendere come l'Atalanta. Perché noi abbiamo fatto delle valutazioni sui nostri giocatori molto elevate e quelle che siamo riusciti a vendere siamo dovuti andare a calare. Siamo venuti molto incontro alle richieste delle squadre che andavano ad acquistare i cartellini. Basta vedere su lei che ora diventerà il perno della Roma, anche considerato quello che sarà molto probabilmente il futuro di Dybala, che se sta leggendo potrebbe essere verso l'Arabia. Quindi noi a vendere non siamo bravi, è un dato di fatto. E a comprare ci stiamo avvicinando molto, se non tantissimo, se non esattamente, a quelle che sono le richieste, le cifre richieste dall'Atalanta per Combeners, che è il giocatore fondamentale per Diago Motta, per Giuntoli, per la Juve, il grande investimento che voleva fare la Juve, il grande investimento tecnico che vuole fare la Juve, però ci stiamo molto avvicinando. Questa cosa qui però va a smentire tutto quello che si è detto e che, vi ho detto, mi sembrava essere folle legato al sostituto. L'Atalanta non lo cede fino a che non trova un sostituto. Ragazzi, ma questo è fuori rosa. Ragazzi, questo è fuori rosa. Cioè, questo non è partito neanche per andare a giocare la Supercoppa. Ma che sostituto deve trovare prima l'Atalanta? L'Atalanta non sta riuscendo a chiudere il trequartista del Celtic perché vogliono più soldi, l'Atalanta ne offre meno, mi ricordo una situazione. Però l'Atalanta non è che va lì e gli dice allora ok, e si sta guardando intorno, ci sono altri profili. Ieri è venuto fuori anche il nome di Samarasic, che è un giocatore che in Serie A comunque ha sempre fatto molto bene, che ora è ancora parcheggiato a Udine, secondo me si muoverà. Mi sembra strano, però chissà, l'Atalanta potrebbe essere davvero lo spazio giusto, potrebbe essere lui e le sue strutture con Mainers. Ci sta, logicamente la trovo una scelta sensata. però il sostituto l'Atalanta avrà tutto il tempo di cercarselo anche dopo averci avuto il calciatore. Quindi secondo me l'Atalanta sa che ci sta prendendo per i cocones, per i gioielli di famiglia. Noi siamo veramente così, l'Atalanta sta stringendo, 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 e noi siamo lì che dobbiamo assecondarla, accontentarla, dirle ma quanto sei bella idea, ma che peccato che hai perso l'altra sera. Noi siamo in questa situazione qui oggi con l'Atalanta. Cioè, è il segreto di Pulcinella, la Juventus vuole con Mainers, la Juventus necessita di con Mainers, Diago Motta vuole con Mainers, Giuntolo vuole con Mainers. È il segreto di Pulcinella, è come giocare a poker con le carte girate. Tu stai facendo una mano di poker e i tuoi avversari sanno che mano hai te e che mano hanno loro. E tu invece sei solo la tua di mano, bene o male. Quindi oggi siamo veramente alla rese dei conti. E per fortuna ragazzi che giochiamo lunedì. Perché domani giocano l'Inter, il Milan, eccetera, eccetera. Pensate giocarla anche domani nella Serie A. Abbiamo 24, se non 36, 48 mi pare di no, però dalle 24 alle 36 ore in più per riuscire a tesserare almeno un calciatore e convocarlo. Che sia Nico, che sia Copp o che sia Calulu, che in questo momento è disperso. Ragazzo mio, per me la trattativa che avrebbe portato Calulu al Milan a quelle condizioni era una trattativa buona, ma se tu non sei convinto venire a giocare la Juventus, col Milan che ci ha messo 5, dico 5 e sottolineo 5 minuti a dire «Belissimo, Calulu lo do via, non c'è problema, lo vuoi a Juventus? Tieni, perfetto!» Parlaci, fagli l'offerta. No. Rimani tranquillamente al Milan a giocarti le tue carte, rimani al Milan a vedere se riesci a scavalcare le gerarchie. A me il profilo Calulu piace, ma se hai dei dubbi se accettare o meno a Juventus, amico mio, e ormai sono passate 72 ore, grazie, amici come prima e arrivederci. Perché qui sembra anche un pochettino arrivato il limite e forse anche oltrepassato il limite. La Juventus deve venire dalla gente che vuole giocare con la maglia Juventus. La maggior ragione in questo momento qui non è più la Juve che ti cattura perché cavolo gli stipendi che ti dà la Juve, chi te li dà? No. C'è un progetto tecnico, sei un giocatore utile, funzionale, ti abbiamo individuato, perfetto, se vuoi venire bene, se non vuoi venire, ne troviamo sicuramente un altro. Per quanto l'Eventus oggi sia in emergenza, perché oggi l'Eventus è in emergenza, oggi l'Eventus ha fretta, Calulu, se non sei convinto, grazie e arrivederci. Quindi muoversi con questa risposta, che sia sì, che sia no, non mi interessa più a questo punto. Mi auguro che sia sì, in modo da poter chiudere la trattativa, se no, non succede niente. Perché io, un giocatore che devo pregare di venire a giocare a Juventus, dove in questo momento non è nemmeno lontanamente titolare al Milan, per ragioni legate agli infortuni, per ragioni legate al mercato, per ragioni legate alla volontà del Milan di cercare il giocatore, mi dispiace, grazie e alla prossima. Queste sono le considerazioni di oggi, fatemi sapere le vostre sotto nei commenti, non so se nel pomeriggio ci vedremo già con un nuovo video per commentare qualche magari ufficialità o comunque trattativa che sia sbloccata definitivamente, ormai ci siamo, che vadano in porto, che falliscano, ormai ci siamo. Quindi secondo me, da quelle prossime due settimane, tra partite e mercato, ci vedremo due, se non tre volte al giorno. Abituatemi, ciao!